Ecco le battaglie vere, quelle importanti, a ricordarcelo Laura Boldrini la quale ci dice dobbiamo cambiare il nome alla carta dell'ONU, per quale motivo? Perché è sessista, da carta dei diritti dell'uomo deve diventare carta dei diritti dell'umanità, bisogna cancellare il maschio. Ora Laura Boldrini evidentemente interessa più la denominazione piuttosto che far sì che questi diritti vengano veramente rispettati ma in questo la Boldrini ci ha abituati visto che ha fatto da sempre una battaglia strenua affinché lei si facesse chiamare la Presidenta. Allora voglio rivolgermi alla Presidenta e dirle, secondo lei Presidenta che cosa se ne fanno le donne iraniane di questo cambio di denominazione? Lei Presidenta che si è coperta il capo davanti agli Ayatollah di Teheran, secondo lei è veramente importante questo cambio di nome o sarebbe stato più importante che lei si fosse fatta portavoce in piazza di tutti i diritti negati di queste donne iraniane?